La collaborazione tra lo Stato e la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, impegnata a servizio delle popolazioni nei campi della salute, dell'educazione e dell'assistenza agli immigrati, è stata al centro dell'atteso incontro di Papa Francesco in Vaticano con il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Nel corso del colloquio privato, per circa mezz'ora, riferisce la Sala Stampa Vaticana, il Papa e il Presidente Trump hanno espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America e per il comune impegno a favore della vita e della libertà religiosa e di coscienza. C'è stato inoltre uno scambio di vedute su alcuni temi di attualità internazionale e sulla promozione della pace nel mondo, attraverso il negoziato politico e il dialogo interreligioso, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente e alla tutela delle comunità cristiane. Al termine del colloquio, il Presidente Trump ha presentato al Papa la moglie Melania, che ha ricevuto una speciale benedizione per il rosario che aveva tra le mani, la figlia Ivanka e il geneto Jared Karchner. Tra i doni del Papa al Presidente, una copia dei suoi documenti Evangelii Gaudium, a Moris Letizia, laudato sì, e una copia del messaggio per la giornata della pace del 2017 autografato personalmente dal Pontefice. Non dimenticherò ciò che lei mi ha detto, sarebbe stato il saluto finale del Presidente Trump al Papa al termine dell'udienza, prima di raggiungere nella prima loggia del Palazzo Apostolico il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e l'Arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati.